Il bel tempo e il primo tepore primaverile sono durati poco, da alcune ore infatti è tornato il maltempo anche nel comprensore Ipparino con precipitazioni incessanti che come al solito contribuiscono a creare disagi soprattutto alla circolazione veicolare nelle zone periferiche degli agglomerati urbani. A vittoria ad esempio dopo poche gocce di acqua si allaga subito la sede stradale nelle adiacenze della circonvallazione per Gela che è presente della diramazione col vicino mercato ortofrutticolo. Si tratta come è facile arguire di una zona ad alta densità di circolazione specie per il passaggio di tir e camion diretti sia al mercato di Fanello che nella zona industriale. Quando piove a dirotto come in queste ore nel Ipparino la strada diventa una sorta di lago dove è difficoltoso procedere senza non dover rincorrere in disagi dovuti proprio al totale allegamento dell'arteria. Il problema è stato da tempo prospettato agli organi competenti ma finora lo scenario, pioggia compresa, non è cambiato.